Allora professore, FSHD ovvero distrofia muscolare faccio, scapolo o merale, di che cosa si tratta? È una malattia genetica che colpisce i muscoli, quindi una distrofia muscolare in cui c'è una progressiva perdita dell'autonomia motoria, può colpire sia maschi che femmine, può colpire tutte le età, ma una minoranza sono i casi in età infantile che sono i più gravi, la maggior parte riguarda gli adulti in cui la malattia colpisce i muscoli uno alla volta nel corso della vita. Ecco, esistono terapie? Al momento non esistono terapie risolutive, diciamo, che possano bloccare la progressione della malattia. Esistono però tantissimi studi recenti sui meccanismi con cui la malattia si instaura, sui meccanismi genetici e molecolari, che aprono la strada concreta alla possibilità di numerosi interventi terapeutici. Naturalmente è prevedibile che ci saranno nei prossimi anni molti trial, molte sperimentazioni e qui si pone un problema di come verificare l'efficacia di queste terapie. Perché? Perché questa è una malattia in cui c'è un'estrema variabilità, da un individuo all'altro. Ci sono periodi di rapida progressione, periodi invece in cui la progressione non avviene. E quindi individuare e quindi poter quantificare la progressione e le fasi di attività di malattia è estremamente difficile. Un compito proprio delle associazioni di malati di tutto il mondo è quello di riuscire ad arrivare pronti al momento in cui sarà possibile partire con i trial. Pronti significa avere dati quantitativi sulla progressione della malattia. Perché il problema è che sostanzialmente non avete un campione omogeneo su cui fare ricerca. No. Proprio perché è variabile da paziente a paziente. E inoltre non abbiamo la possibilità di utilizzare modelli animali e modelli cellulari per ottenere dati sulla progressione. E quindi dobbiamo studiare l'uomo. Cosa estremamente complessa che comporta anche la necessità della collaborazione tra medici e famiglie. Senta, ma allora in questo momento che cosa si può fare? Una persona che scopre di avere questa patologia cosa fa? Intanto, oltre a parte arrivare a una dianesi genetica definita, si possono fare tante cose che possono migliorare la qualità di vita delle persone. Sia in termini riabilitativi, sia in termini dell'uso degli ausili più idonei. E quindi deve rivolgersi in uno dei centri, ce ne sono in Italia, ci sono praticamente dappertutto, dove ci sono esperti per questa malattia. Al Gemelli, per esempio, dove lavoro io, è stato istituito proprio un percorso per questa malattia. Specifico per questa malattia. Sì, specifico, proprio per questo. Senta, un'ultima cosa rapidissimamente. Quanto è importante una diagnosi precoce? E' importante perché in questa malattia, diciamo che, proprio per definire la storia naturale di questa malattia, è importante studiare le persone dall'inizio. Sapere come progredisce in quella persona. Vedere come progredisce in tutti gli individui fin dall'inizio, e in questo l'uso della risonanza magnetica muscolare, per esempio, si sta rivelando estremamente utile. Grazie, grazie professore.